Siamo con Trippini dell'Atletico Smistamento 1-1, che partita è stata? È stata una partita combattuta, sofferta fino all'ultimo, un pareggio giusto per quello che si è visto in campo e punteremo partita dopo partita a far meglio. Buono il primo tempo, il secondo è un po' subito l'iniziativa dell'Alba Roma, sicuramente c'è qualcosa da migliorare? Sì, sicuramente il primo tempo è bene, il secondo siamo stati nel calo, sia fisico che anche tattico da parte degli avversari però come ho detto prima cercheremo di prendere il punto dagli errori di fatti oggi per migliorare le prossime gare. Complimenti per il pareggio importante e in bocca al lupo per le prossime.